Buonasera, bentrovati ad una nuova edizione del Tg6 che apriamo parlando di sanità con il bollettino del Covid perché oggi in Abruzzo ci sono 2.220 nuovi positivi, sono stati eseguiti 1.453 tamponi molecolari e 6.870 test antigenici, 3 le persone decedute, 2 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Teramo, 401.605 i guariti più 217, 31.453 attualmente i positivi più 2.000 di cui 157 ricoverati in area medica più 1 rispetto a ieri e 5 in terapia intensiva meno 2 rispetto alla giornata di ieri. I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila, 431, Chieti 611, Pescara 511, Teramo 476, 70 fuori regione in accertamento, 121. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, parliamo di saldi perché come in molte regioni italiane anche in Abruzzo al via i saldi estivi fra chi spera di trovare l'occasione buona e chi di fare qualche affare in più dopo due anni di pandemia. Gli esercenti in generale non sono però d'accordo con la partenza anticipata dei saldi. Vediamo il servizio. Partono oggi i saldi nella nostra regione Marina Dolci e quali sono le aspettative e le speranze dei commercianti? Allora intanto è una bella giornata, iniziamo con gli sconti, tutte le attività sono ben allestite, c'è buona scelta, è una data molto anticipata quindi è uno sconto che noi vogliamo fare ai nostri cittadini e ai nostri clienti. Partono questi saldi, insomma l'obiettivo è far sì insomma si possa fare qualche affare in più rispetto agli ultimi due anni che sono stati contrassegnati anche dalla pandemia. Sì, sicuramente ci aspettiamo un po' più di affluenza, capiamo anche che ci sono tante bollette, tante spese in più per le famiglie, però insomma noi partecipiamo, con questi sconti sicuramente le vendite saranno accattivanti. Siamo a Pescara, siamo in pieno centro, ci sono tanti pescaresi pronti a fare acquisti ma anche tanti turisti, si rivede una città abbastanza piena? Sì, stiamo vedendo che ci sono dei turisti, i B&B e gli alberghi sono occupati quindi sì, è una città bella, in più abbiamo la bandiera blu del mare e quindi sì, ci aspettiamo ottimi lavori. Lei prima parlava di questa data anticipata che è stata decisa qualche anno fa dopo il terremoto, però molti non sono d'accordo con la partenza dei saldi i primi giorni di luglio, qual è il suo pensiero? Sì, allora non siamo d'accordo, nel senso che la tempistica di vendita è troppo breve, come una famiglia anche le attività commerciali hanno tante spese da dover sostenere e quindi comunque noi ci auguriamo che questa data possa essere spostata un pochino più avanti, cioè tornare proprio a non dire sconti ma saldo e il saldo dovrebbe essere ad agosto. Vediamo, però poi le promozioni ci sono sempre per i nostri clienti, quindi non è un togliere l'offerta alla clientela, sicuramente ci sarà sempre uno sconto per i nostri clienti. E siamo alla visita di Nancy Pelosi in Abruzzo dopo Fornelli in Molise, la speaker della Camera americana Nancy Pelosi ha visitato ieri Montenero Domo, paese in provincia di Chieti e paese natale di suo nonno Tommaso, dove ha ricevuto la cittadinanza onoraria da parte del sindaco Angelo Piccoli. Vediamo il servizio di Stefano Recanati. La speaker della Camera statunitense, Nancy Pelosi d'Alessandro, ha ricevuto la cittadinanza onoraria dei due paesini di origine dei suoi genitori in Abruzzo e in Molise. Il tour dell'82enne esponente democratica ha fatto tappa a prima Fornelli, provincia di Sernia, paesino di 2000 anime, dove ha visitato il borgo antico e ha scoperto una targa davanti alla casa, dove nel 1909 nacque sua madre, nunziata Lombardi. Nel pomeriggio poi la visita a Montenero Domo, paesino di 700 abitanti in provincia di Chieti, che dette invece i Natali al nonno paterno Tommaso. Tagliere, pantalone rosa, confetto e occhiali da sole, la Pelosi, in pol per la corsa d'ambasciatrice a Roma, non si è sottratta a selfie e scambi di battute con i sindaci del comprensorio. Meraviglioso essere qui, ha affermato. Le radici forti ci danno le ali della libertà. Più siamo fedeli alle radici, più sarà facile spiegare le nostre ali. Mio nonno era meraviglioso, ha chiuso a Nancy Pelosi, passeggiando tra i vicoli. Mi è sembrato di rivederlo. A fare gli onori di casa il presidente della regione, Marco Marsiglio. È un momento importante per tutto il nostro territorio, ha dichiarato il presidente. Con la visita della signora Pelosi riallacciamo quel legame mai dissolto con gli emigranti che all'inizio del Novecento lasciarono l'Abruzzo per trovare fortuna e oltreoceano. È stato un incontro molto emozionante e dall'alto valore simbolico, ha proseguito Marsiglio, che per la speaker della Camera americana ha avuto anche lo scopo di rinsaldare le radici con il territorio che diede i Natali ai suoi avi. Parliamo di politica. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, assieme ad un gruppo di residenti, questa mattina è sceso in strada Pescara in Vialago di Borgiano per denunciare il degrado del parco presente nella zona. Pettinari chiede la sorveglianza anche per gli spazi verdi. Vediamo il servizio. Pettinari, siamo a Rancitelli, siamo in Vialago di Borgiano e lei questa mattina con alcuni residenti è qui per parlare della situazione che riguarda questa particolare zona del quartiere Rancitelli dove ci sono delle problematiche. Sì, intanto voglio dirlo subito, sono fortemente preoccupato di quello che vorranno realizzare dopo l'abbattimento di questo palazzo. Questi si dovranno abbattere perché io sono stato il primo a fare la denuncia per la staticità della struttura e quindi non è a norma e vanno abbattuti. Ma dopo vogliono realizzare un grande parco. Allora qui vicino c'è un parco a 60 metri, ricettacolo di tossicodipendenti, zombie che si addormentano per terra con la siringa nelle vene, i bambini che giocano lì dentro. I parchi in queste zone periferia, se non vengono sorvegliati H24, sono luogo di aggregazione della malavita. Quindi qui noi già sappiamo che dopo che abbatteranno questi palazzi e realizzeranno il parco, lo lasceranno come quell'altro perché è da anni che sto chiedendo la sorveglianza e non c'è, quindi sarà un nuovo luogo di aggregazione dalla criminalità. Allora i parchi nelle periferie devono essere sorvegliati con un poliziotto fisso, presidio fisso, una guardia giurata armata, polizia locale, facessero loro. Poi qui si condivano a spacciare tutti i giorni, notte e giorno, persone che non hanno i requisiti che hanno le case popolari, persone violente, ci sono aggressioni, minacce, persone che non ce la fanno più, spaccio di droga tutti i giorni, case popolari che vengono utilizzate per attività illecite e dovrebbero essere tolte. Quindi io chiedo con forza e mi sto sgolando a ripeterlo, sgombro di tutti gli occupanti abusivi di coloro che non hanno i requisiti, di coloro che utilizzano le case popolari per attività illecite e vorrei che quando si decide di fare un parco nella periferia il parco deve essere super sorvegliato, altrimenti è un danno, quindi quel parco sarà un danno alla periferia. Siamo alla cronaca, è finito in carcere con l'accusa di usura un 38enne di Montesilvano, l'uomo è stato arrestato dai carbinieri del nucleo investigativo del reparto operativo in collaborazione con i colleghi della compagnia di Montesilvano in esecuzione di una ordinanza firmata dal GIP di Pescara su richiesta della locale procura della Repubblica. Secondo l'accusa l'uomo avrebbe posto in essere condotte estorsive nei confronti di un imprenditore terramano in difficoltà economiche con l'erogazione di prestiti con tassi molto alti di interesse fino al 400% annuo e quando l'imprenditore non è riuscito a saldare le scadenze il 38enne si è fatto assumere in maniera fittizia in azienda percependo retribuzione e attestando falsamente la posizione lavorativa all'autorità giudiziaria al fine di ottenere misure alternative al carcere per una precedente condanna. Assieme all'uomo arrestato risultano indagate altre sei persone delle province di Pescara, Teramo e Milano nei confronti del 38enne di tre indagati è stato anche disposto il sequestro preventivo di 350 mila euro di disponibilità liquide ritenute profitto diretto del reato di usura. E noi torniamo con il nostro telegiornale anzi proseguiamo con la cronaca perché il comandante Gianfranco Lucignano lascerà la guardia di finanza di Teramo il prossimo 25 agosto quando sarà chiamato a dirigere il comando di Ascoli Piceno delle Fiamme Gialle. Ad un paio di mesi dall'addio ha tracciato un bilancio dell'attività fin qui svolta. Vediamo il servizio di Ania Cantagalli. Comandante che territorio ha trovato due anni fa e che territorio lascia? Anzi tre anni fa. Territorio sano, me ne vado con un territorio sempre sano però ferito dopo i due anni di pandemia, di crisi economica e quindi di voglia di rialzarsi. È chiaro che i livelli di illicità sono comunque bassi, ma ci sono, tant'è vero lo vediamo in determinate attività economiche che abbiamo svolto. Negli ultimi 17 mesi abbiamo effettuato 206 interventi in materie imposte dirette IVA, individuando un'evasione di 27 milioni di Euro, di cui 40 soggetti completamente sconosciuti al fisco, cioè che non presentavano alcuna dichiarazione. 95 persone denunciate per reati fiscali, proposti sequestro all'autorità giudiziaria per 23 milioni di Euro. Poi abbiamo anche l'altro comparto, quello della spesa pubblica e anche lì delle attività hanno dato i loro frutti. Abbiamo trovato appalti illeciti per 2 milioni e mezzo, denunciato quasi 11 persone, lo stesso per i reati contro la pubblica amministrazione, abbiamo sequestrato importi quasi pari a un milione di Euro e denunciato 15 soggetti, di cui 11 amministratori pubblici. E poi abbiamo il reddito di cittadinanza, dove abbiamo denunciato quasi 103 soggetti e recuperato contributi in debiti percepiti per quasi un milione di Euro. C'è un consiglio che si sentirebbe di dare al suo successore? Attenzione, attenzione perché non bisogna sedersi quando i territori sono particolarmente tranquilli, perché poi la criminalità, soprattutto quella organizzata, tende a penetrare nelle maglie di questi contesti economici tranquilli per poi fiorire tramite investimenti, tramite ovviamente per gli usurai che in questo periodo di sofferenza economica potrebbero attirare una platea di soggetti che probabilmente non hanno le loro richieste saudite da parte degli istituti bancari. Bambini e vigili del fuoco, un connubio sempre più indissolubile. La conferma arriva dall'evento Pompieropoli, ospitato all'interno del Centro Commerciale Universo di Silvi, fino alla giornata di domani. Vediamo il prossimo servizio. Io diventerò il pompiere! Come per il più celebre dei cartoni animati, Grisù il pompiere, questa mattina tanti bambini hanno affollato il Centro Commerciale Universo di Silvi per prendere parte all'iniziativa Pompieropoli, un percorso misto tra arrampicata, scala di equilibrio, ponte tibetano, oltre alle diverse scale in dotazione ai mezzi dei vigili del fuoco. I percorsi delle Pompieropoli sono studiati per poter dare ai piccoli partecipanti, in assoluta sicurezza, una nuova visione degli eventuali ostacoli che possono comparire a loro improvvisamente. L'iniziativa è organizzata dall'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Pensione e l'Associazione Grisù di Teramo. Tanti bambini. La settimana, sabato scorso, l'abbiamo fatto Pompieropoli nella notte rosa di Tortoreto e abbiamo fatto circa 500 bambini, dalla 6 di pomeriggio fino a mezzanotte e l'una di notte. L'ultima la faremo a settembre e ottobre, penso a Teramo in Piazza Martiri. L'evento itinerante ha inoltre lo scopo di sensibilizzare, in questo caso bambini, ma anche i genitori che li accompagnano in quelli che sono i temi della prevenzione. Guardi, diciamo che a livello nazionale siamo un pochino in sofferenza come numeri, speriamo che si possa quanto prima sopperire. Devo dire che poi questo è un periodo particolare, colgo l'occasione per ribadire il concetto che con queste temperature così alte avere un minimo di accortezza quando si va fuori, quando si sta in giro per far sì che non ci siano questi incendi che laddove non sono dolosi, e quella è la maggior parte dei casi, scaturiscono dal fatto che siamo poco attenti. Forse c'è ancora poca cultura rispetto alla prevenzione degli incendi. Speriamo che queste siano giornate utili per far capire alle persone, quindi ancora in tenera età, da bambini, quali sono i pericoli e qual è il modo corretto di comportarli. E parliamo ora di solidarietà perché l'Adricesta, presieduta da Carla Pansino, ha donato arredi all'ambulatorio vaccinazioni dell'ospedale civile di Pescara grazie ad un progetto voluto dai familiari di Ivan, figlio recentemente scomparso di una volontaria dell'Associazione del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Pescara e della Maico. Vediamo il servizio. Dottor Polidoro, oggi c'è stata questa bella cerimonia, la consegna di questi arredi dell'Adricesta al laboratorio vaccinale di Pescara, un presidio fondamentale in questo periodo storico. Senza dubbio è stato un presidio fondamentale e lo è e lo sarà, perché purtroppo abbiamo dei casi in risalita. Questa è un'iniziativa importante, fondamentale per l'ASL, per la cittadinanza, perché? Perché si occupa dei bimbi, perché abbiamo avuto il supporto dell'Adricesta per rendere ancora più accogliente queste strutture. Io ripeto, è difficile esprimere con le parole quello che invece nei fatti troviamo, e vediamo realizzato, perché solo chi viene qui può sperimentare l'accoglienza, la professionalità e la competenza di tutti gli operatori, con il supporto dell'Adricesta, dei genitori di Ivan, che conosco personalmente e quindi ringrazio anche per l'iniziativa. È importante anche questo binomio tra la sanità pubblica e il volontariato, le associazioni che operano sul territorio? Questo binomio è fondamentale, perché la sanità pubblica ha bisogno di supporto, perché è un'attività difficile, è un'attività che viene rivolta soprattutto ai bambini e quindi merita soprattutto attenzione. e l'Adricesta ha queste capacità di dare attenzione, ascolto e in grado di intercettare il bisogno laddove questo bisogno c'è e i bimbi hanno bisogno di questo. Sono 29 le edizioni di concerti sotto le stelle, la kermesse musicale che allieterà le serate dei pescaresi e dei turisti dal 4 luglio al prossimo 30 agosto. Vediamo i dettagli nel prossimo servizio. Torna con la sua 29esima edizione dal 4 luglio al 30 agosto. Concerti sotto le stelle, Pescara International Music Festival, un appuntamento classico dell'estate pescarese, una manifestazione che appartiene al patrimonio culturale della città e che presenta un cartellone di 16 appuntamenti musicali all'Aurum, all'Auditorium Petruzzi e al porto turistico Marina di Pescara. Ma è questa la novità per il 2022? Prevede anche rilevanti escursioni artistiche che vanno dalla poesia al teatro e fino anche a interessare i testi dannunziani. Per la 29esima edizione di concerti sotto le stelle, il comune di Pescara continua a sostenere questo festival in cui troviamo varie culture, vari generi musicali, abbiamo anche delle incursioni teatrali di poesia. Insomma c'è un calendario di tanta qualità e soprattutto di tanta passione da parte di coloro che si esibiranno, che darà sicuramente lustro alla città di Pescara perché ci riuscirà a far andare in uno spazio internazionale per godere di bella musica sotto le stelle. L'appuntamento più importante sicuramente è quello del 20 agosto al porto turistico con Sarah Jane Morris, si tratta di un ritorno. È stata lei a chiederci di tornare a pescare soprattutto in questo scenario che è sempre molto particolare, direi magico. Va menzionato sicuramente il concerto del 6 di luglio a Laurum, anche in questo caso nel bellissimo piazzale Michelucci, ci sarà D'Annunzio in jazz, che è una produzione di Danilo Proia e direi che si tratta anche in questo caso di uno spettacolo molto interessante che vuole mettere insieme la poesia di D'Annunzio con la musica, sarà in gran parte musica originale. Insomma direi che sono tutti appuntamenti di assoluto rilievo. Mi piace concludere dicendo che abbiamo dato molto spazio anche ai musicisti abruzzesi e ai tanti giovani che ci chiedono di partecipare e che hanno ovviamente necessità di questi spazi, di questi momenti. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. Non solo la questione relativa all'indice di liquidità, anche i mancati versamenti IVA. Siamo allo sport, una situazione persino peggiore del previsto per il Teramo Calcio che ora attende la battaglia legale con poche speranze di mantenere la categoria. Ci dice tutto nel servizio Jacopo Forcella. Non solo l'indice di liquidità, anche l'IVA e il suo mancato versamento tengono il Teramo fuori dalla prossima Lega Pro. Almeno per il momento, visto che pochi minuti dopo il risponso della Covizoc, la società ha fatto sapere che presenterà ricorso e per questa ragione ha conferito mandato allo studio DCF Sport Legal per assisterlo e difenderlo in una battaglia che però si preannuncia dagli esiti difficilmente positivi. Partiamo per punti, quelli che ha rilevato e contestato l'organismo di vigilanza delle società professionistiche. Chiaramente l'indice di liquidità, il parametro che si sapeva mancante. Sarebbe servito un ripianamento della carenza finanziaria che tocca il milione di euro, 975.490 euro. Una somma che qualora il Teramo uscisse indenne dal procedimento sportivo che si aprirà sarebbe comunque da saldare. Poi c'è la questione relativa al deposito di una relazione che attesti l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l'impossibilità di giungere ad una conclusione sia sulla semestrale al 31 dicembre sia su quella al 31 marzo. Infine c'è il capitolo IVA, obblighi di pagamenti dei debiti fiscali relativi agli anni 2016, 2017, 2018 e 2019. La società aveva chiesto una rateazione lo scorso 20 giugno a 48 ore dalla fine dei tempi per presentare la domanda di iscrizione. Pur avendola presentata in extremis, l'agente della riscossione, si legge, non ha ancora fornito nessun riscontro né elaborato un piano di ammortamento. Ne deriva che al termine perentorio del 22 i debiti erariali menzionati non possono essere considerati oggetto di un rituale adempimento rateale, tale da permettere la tempestività dei pertinenti obblighi di pagamento. Una situazione nera, nerissima, anche peggiore di quanto ragionevolmente ci si potesse attendere nei giorni scorsi. Quando accanto alle perplessità sul famoso indice di liquidità era balenato un filo sottile di ottimismo per la pronuncia tar che tuttavia non aveva nulla a che vedere con il merito della vicenda a Teramo. I debiti con l'erario e la cifra a monstre per ripianare sono spie evidenti di una situazione complicata che adesso il legale Cesare Di Cintio proverà a ribaltare. Ma le speranze sono davvero ridotte a lumicino? Il Consiglio federale dell'8 luglio sarà chiamato a definire gli organici? Dire che ci sarà anche il diavolo oggi è un esercizio davvero complicato. Anche il campo basso rischia la stessa sorte sportiva. Fermana e Torres adesso sperano e hanno, stavolta davvero, fondati motivi per farlo. Siamo ancora allo sport, restiamo al calcio, parliamo del Pescara. Tante infatti le operazioni di mercato impostate dalla società Bianca Azzurra nei prossimi giorni arriveranno le ufficialità. Intanto ieri la società ha lanciato la campagna abbonamenti che torna a distanza di due anni. Vediamo il servizio curato per noi da Andrea Costantini. Quella che è andata agli archivi è stata una settimana proficua in Casa Pescara. Tante le trattative impostate che, come anticipato dal DS Dellicarri nel giorno della presentazione, saranno ufficializzate nella prima settimana piena di luglio, ovvero la prossima. Quella ancora successiva sarà invece la settimana del raduno e della partenza per il ritiro di Palena, fissata per il 15 luglio. Sono stati giorni che hanno consentito alla società di fare anche operazioni in uscita che porteranno in cassa liquidità per sviluppare il mercato. L'operazione principale è stata quella col Monza per la cessione di Alessandro Sorrentino per un milione di euro, più i cartellini di Lombardi e Sommariva, il presidio di Siatunis. Ma una discreta mano è arrivata anche dalla cessione agli argentini dell'independiente di Edgar Elisalde per una somma che sfiora i 600 mila euro, un quarto dei quali andrà nelle casse del Peñarol, il club uruguayano, dove il difensore ha militato fino al 30 giugno, ma che non lo ha riscattato. Risorse fresche che potranno crescere con altre probabili operazioni, quali le cessioni di Davide Veroli, sul quale si registra anche l'interesse del Benevento, e Marco delle Monache, che oltre a club italiani fa registrare l'attenzione, secondo alcuni rumors, dei tedeschi del Borussia Dortmund. Rispetto a quanto già detto nei precedenti giorni, il Pescara sta lavorando per alcuni profili a centrocampo, uno giovane come il 22enne Salvatore Pezzella della Roma, lo scorso anno a Siena, con cui segnò l'unico gol in campionato proprio contro il Pescara, uno esperto come il 34enne Luca Mora, che si è svincolato dopo essere arrivato a scadenza con la SPAL. Con l'addio al calcio di Memusciai, i rientri dai prestiti di Pompetti e Derisio, Pontisso in scadenza è destinato al Catanzaro, e con l'incognita di Ambo il reparto va ricostruito da capo e i nomi di Della Latta, oltre che Pezzella e Mora, vanno in quella direzione. Ieri intanto il Pescara, dopo due anni di stop per la pandemia, ha lanciato la campagna abbonamenti 2022-2023, dal lunedì 4 luglio al 20 luglio, tessere in vendita presso lo store di Via Carducci per i soli vecchi abbonati della stagione 19-20, con possibilità di prenotare il precedente posto e usufruire della scontistica dedicata. Dal 21 luglio la vendita è libera, ci saranno tariffe anche ridotte e ridotte femmini, i prezzi base oscillano dai 130 euro per la curva ai 950 per le poltronissime, distinti a 210 e 290 euro, tribuna maiella a 400 e 580 euro. Necessaria la sottoscrizione della nuova tessera Fidelity Card, cuore biancazzurro, dal costo di 15 euro, con validità triennale. Siamo ancora al calcio, ma al calcio di serie D in questo caso, perché in una intervista che è stata pubblicata questa mattina dai canali social della Vastese, il presidente Franco Bolami parla dell'imminente fumata bianca con l'imprenditore Attilio Di Stefano per la cessione delle quote della società Bianco-Rossa. Trattativa a buon punto e che per Bolami può chiudersi entro la giornata di lunedì con le firme sui documenti. Siamo a buon punto, è una settimana di lavoro, di carte, di documenti, perché sia la parte mia, la parte sua, c'è l'intenzione di parte mia, di andare via, come ho sempre detto, la parte sua di acquistare, di fare il presidente di questa squadra, società. Penso che devono vederci oggi, ma lui per motivi di lavoro sta fuori vasto e sicuramente i due avvocati stanno lavorando, lunedì chiudiamo questa bella trattativa. Ovviamente la trattativa non è ancora pienamente definita, non ci sono le firme, ma all'auguratamente non si dovesse arrivare ad un accordo, che succede? Guarda, penso che lunedì chiuderemo, perché come ho detto, come ho visto, me l'ha presentato sia il sindaco che l'assessore, perciò devo fare non un passo indietro, ma due passi indietro, dove la mia volontà di lasciare, penso che lunedì chiudiamo, se ci devessero essere problemi come della tua domanda, io ti dico personalmente, io ho fatto la mia decisione, dopo toccherà ancora il sindaco e l'assessore di presentarmi a qualche altro imprenditore, se c'è questa possibilità, però l'ho visto entusiasta, l'ho visto carico e l'ho visto anche convinto, perciò penso che questi problemi non ce ne saranno. Sette anni di presidenza, sette anni di storia e di passione che non si dimenticheranno facilmente. Sette anni bellissimi, nonostante qualche sbandamento che fa parte della vita, ma sette anni di passione, di cuore, e perciò lascio la squadra tranquilla, il mio ciclo è finito, con la speranza che problemi questa società non avrà più. Pietro per me è stato e sarà un fratello, perché avevo condiviso gioia e dolori, problemi a non finire, perché chi farà calcio e chi lo fa da anni lo capisce quando sta dentro, però io lo ringrazio personalmente, lo voglio bene, però ringrazio tutti e devo ringraziare una persona che durante sette anni mi è stato veramente vicino, il Presidente di Pineto Silvio Brock, lo ringrazio personalmente perché è una persona di cuore e ieri mi ha dimostrato una cosa che non posso dire in diretta, ma con un cuore immenso. Ed è tutto per questa edizione del TG6, grazie come sempre per averci seguito dalla nostra redazione, l'augurio di un buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.